per condividere una presentazione powerpoint con meet sarà sufficiente posizionare il mouse in basso a destra e cliccare sulla opzione presenta ora dal menu a tendina selezioniamo l'opzione una finestra per velocizzare la procedura e non perdersi nella vana ricerca di un documento che non si trova è fondamentale aver aperto la presentazione in precedenza cioè prima di effettuare la condivisione attraverso la finestra clicco quindi sulla presentazione già aperta e poi sulla casella blu condividi questa è una modalità di visualizzazione che ci consente di vedere la struttura della presentazione ma che non si presta molto alla condivisione in meet i partecipanti faranno infatti molta fatica a leggere il testo in questo formato per rendere quindi più fruibile la presentazione è necessario procedere alla visualizzazione a schermo intero cliccando sull'icona dello schermo in basso a destra coloro che partecipano alla video riunione vedranno quindi la presentazione powerpoint integrale per far procedere la presentazione basterà cliccare il tasto avanti che si trova in basso a sinistra eccolo per interrompere la condivisione dello schermo in questo caso della presentazione basterà cliccare interrompi condivisione in basso al centro dello schermo in basso a sinistra eccolo in basso a sinistra eccolo in basso a sinistra eccolo in basso